L'attesa è terminata, si corre domani la 43esima edizione della Sue Giù. La gara podistica amatoriale è aperta a tutti, organizzata dal gruppo sportivo Virtus. Una manifestazione che si corre a Campobasso, ma che vede la partecipazione dei podisti ed amanti della corsa provenienti da tutto il Molise e anche da fuori regione. Nelle edizioni passate non sono mancati i forestieri. Quest'anno la Sue Giù è in memoria di Leo Leone, che nel 1959 costituì ufficialmente il gruppo sportivo Virtus, una società nata per fondere insieme i valori dello sport e della famiglia. Si corre sempre il ricordo di Nicola Palladino, l'ideatore della Sue Giù. Sono venuti meno due pilastri della società giallo-blu, ma non negli obiettivi del sodalizio, fondato per preparare i giovani al mondo degli adulti e per essere parte attiva della sfera civile e culturale per Campobasso e l'intero Molise. La Sue Giù è di diritto una delle manifestazioni che appartengono alla cultura molisana. Per una domenica tutti saranno atleti, tutti riceveranno una medaglia al termine del circuito. Circa 8 chilometri per attraversare il capoluogo di regione, i vicoli del centro storico, le corsie del campo scuola e l'arrivo trionfale nel centro della città, ai piedi della statua di San Giorgio. Il Molise delle eccellenze, questo è il tema scelto per la 43esima edizione. I prodotti, la storia, l'ambiente, le arti e soprattutto la riscoperta e l'esaltazione della propria identità come molisani perché il Molise esiste. Leo Leone diceva, le cose belle vanno protette e godute perché sono le uniche ancora capaci di farci innamorare della vita. Allora domani alle 10 tutti sulla linea di partenza per vivere la sua e giù.